Vista la partita che è andata nel peggiore dei modi oggi? Nel peggiore dei modi, purtroppo fino al primo gol avevamo in mano la situazione, stavamo giocando noi, avevamo creato diverse occasioni per poter passare in vantaggio, alla prima palla abbiamo preso gol, poi Ripa mi dicono che forse fuori aria il calcio di rigore ha compromesso una partita, ma non è un attenuante, però l'ha compromessa. In 10 contro 11 abbiamo sferato, ci ha fatto una grande parata al portiere, abbiamo trovato il gol, poi ci hanno buttato fuori un altro, insomma è dura a commentarla, dura a commentarla perché sono arbitri che poi potrebbero fare il salto di categoria, insomma a finale del genere è un po' troppo, nulla da rimproverare, perché per quello che avevamo prodotto l'unica errore è stato sul primo gol. La cremonese stava cercando di fare la partita con una squadra forte, purtroppo al primo episodio sono stati condannati e l'abbiamo pagata caro. Ti posi molto delusi, sono venuti qua in tantissimi, ti senti di dire qualcosa? Io penso che sia visto la partita, è normale, la delusione ci sta ed è giusto che abbiano questa reazione, però oggi è onestamente da rimproverargli, ai ragazzi poco e niente, in 10 hanno attaccato, in 10 hanno provato, l'hanno riaperta, bisogna valutare bene le cose, peccato perché anche noi saremmo voluti andare avanti, ma questo purtroppo non è accaduto. Difficilmente si riesce a spiegare una delusione del genere perché ci credevamo, ci credevamo e l'avevamo dimostrato nel primo tempo, però abbiamo fatto due errori gravi in fase difensiva, l'arbitro ne ha fatti altre tanti e abbiamo pagato. Loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori, noi magari un po' meno. Ci dispiace, ci dispiace, ma noi abbiamo dato veramente tutto, non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti. Il rammarico è grosso, c'è il rammarico per come si era messa la partita, che almeno io pensavo a fine primo tempo che avessimo in pugno la partita, sicuramente il primo gol ci ha un po' tagliato le gambe, poi l'espulsione di Matteo ancora di più e resta il rammarico anche perché poi in 10 contro 11 si è riusciti a fare il 2-1, abbiamo avuto l'occasione anche di Martinarini che non si sa come il portiere l'abbia presa, però c'è il rammarico grosso, il rammarico per tutti, per tanti motivi. Grazie.